Ricordate che siete già Maestri Ascesi, di Aurora Ray, 5 settembre 2020. Traduzione Marina Questa non è la vita in cui imparate cose nuove per raggiungere livelli di maestria di qualsiasi tipo. Questa è la vita in cui vi ricordate che siete già Maestri Ascesi e che esattamente questo è il motivo per cui siete stati scelti uguale, per incarnarvi e affrontare la più grande sfida nella storia di tutto il nostro universo. Non fatevi ingannare da un sistema corrotto di manipolazione e inganno, bugie e abuso di potere. Chi ha il controllo sul pianeta Terra non è umano. Sono mostri, occultisti, satanisti e adoratori del male. Non importa se credete in Satana, l'unica cosa che conta è che loro lo facciano. Si sono infiltrati nella luce perché si sono infiltrati in ogni area di esistenza sul pianeta Terra. Non fatevi ingannare da chi indossa una falsa fiamma di luce, quelli che si immaginano nella luce, quando tutto ciò che hanno è l'oscurità. Non seguite i falsi insegnamenti che vi dicono cose come ascoltate musica, ballate e cantate e tutto va bene. Non è così che si vincono le guerre. E siete in guerra carissimi? Questa la potete chiamare Terza Guerra Mondiale e infatti questa è una guerra spirituale. Il bene contro il male, la verità che affronta le bugie, la luce contro il buio. Oggi vogliamo rinforzarvi, facendovi portare il fatto che siete già maestri ascesi in prima linea e nella vostra consapevolezza cosciente. Avete tutti gli strumenti, la saggezza, la conoscenza e i poteri intrinseci che Dio vi ha dato per fermare questo sistema e cambiarne la frequenza, da paura ad amore. Continuiamo a inviare potenti fasci di luce gamma fotonica attraverso il sole centrale dritti nelle cellule del vostro essere. Questi raggi di luce trasportano la luce divina che ripara le vostre eliche sparse del DNA e vi permette di accedere alle capacità sensitive e alle conoscenze necessarie, in questo momento, per compiere la vostra missione sulla Terra. Vi ricordiamo che le frequenze di quinta dimensione sono già accessibili sul vostro pianeta. Immaginatelo come un interruttore nella mente e nel cuore che dovete spingere per beneficiare dell'abbondanza 5D. La vostra mente è ancora preoccupata riguardo ai temi della sopravvivenza in terza dimensione, come il vostro lavoro, il vostro business, nutrire la vostra famiglia, prendersi cura dei vostri figli, riparare la vostra casa, ecc. Nel frattempo, il vostro cuore desidera abbondanza, la vita che avete in mente, la vita che sognate, la vita cui, il solo pensarla, vi apre un po' di più il cuore. Se voi a seguire il vostro cuore, e se le cose fossero così semplici, Gesù disse, quando i due diventano uno, il regno può venire, la mente e il cuore. Paura contro amore, energia maschile contro energia femminile. Immaginate con tutta la vostra mente e amate con tutto il cuore. Lasciate andare tutta la paura e seguite il vostro cuore. Siete pronti ad accettarlo come verità, o avete ancora bisogno di continuare la strada della sofferenza prima di risvegliarvi completamente alla verità dell'esistenza? Qual è la verità dell'esistenza? L'amore. L'unica verità è l'amore. Amore incondizionato. E questo significa che prima dovete amare voi stessi. Quando avrete imparato ad amarvi, pienamente e incondizionatamente, inseguirete quel vostro sogno a tutta velocità. Sarete pronti a fare tutto il necessario per seguire il vostro cuore e stabilire quel sogno. Una volta trovato il coraggio nel cuore per fare questo, solo allora sarete pronti a entrare in 5D. Non stiamo dicendo che non dovreste cantare e ballare. Anzi, è esattamente quello che vogliamo che facciate, ma vogliamo che cantiate e balliate mentre vi difendete e siete coraggiosi, e iniziate a dare vita al vostro sogno. Fatevi una domanda oggi, sedetevi in silenzio, respirate, meditate e fatevi questa domanda. Ne ho abbastanza della notte oscura dell'anima sia che voi pensiate di aver sofferto abbastanza o meno, di solito avete ragione. Cominciate a capire come tutto questo sia nelle vostre mani, non è destino di nessuno soffrire, è destino di tutti vivere in abbondanza. L'abbondanza è il vostro diritto di nascita. Quando supererete la paura ed entrate nell'amore e segui il vostro sogno, tutto l'universo cospirerà per aiutarvi. Ora è il momento, vi vogliamo bene, siamo qui con voi, siamo una famiglia di luce. A.O. Aurora Rei Ambasciatrice della Federazione Galattica, Alto Consiglio Lirano, Emissario della Dea, Traduzione Marina.